ci stiamo curando le unghie vedo giusto wow french manicure impressionante beh almeno fino a quando non guardi da vicino accidenti come faccio a sistemarla ehi me la sono fatta a piedi adesso le vesciche hai dei cerotti ah perfetto oh no ho peggiorato le cose sono un vero disastro ehi dammi quel cerotto se ti stai facendo le unghie prova a usare un cerotto per tenere le linee dritte per una french manicure posiziona il cerotto in questo modo adesso puoi dipingere le unghie e il cerotto sì è così facile perché torturarti quando puoi semplicemente usare il trucco del cerotto ecco ti ho portato del tè dai un'occhiata alle mie bellissime unghie sono davvero fantastiche forse puoi fare anche le mie la prossima volta oh brian è proprio carino vuole uscire domani oh brian si no non mi credi di cosa stai parlando oh no tutto tranne un grosso brufolo mi spiace ragazza sei sempre bellissima non preoccuparti vorrei poterti aiutare forse posso prova a usare questo spicchio d'aglio cosa? mettilo proprio sopra i succhi calmeranno l'infiammazione domattina sarà secco ah finalmente una dormita riposante credo sia sparito sofia guarda un po' chi si è svegliata senza brufoli wow che trucco geniale inizia a prepararti chiamatemi pure la sterminatrice di brufoli venticinque ventisei ventisette ventotto finalmente ho finito di spazzolare adesso devo arricciarli meglio prepararsi mentre si scalda iniziamo dovrebbe andare oppure no lasciamolo un altro po' e oh andiamo questo coso non è nemmeno caldo mi arrendo oh oh sofia i miei capelli scusa non l'ho fatto apposta lo giuro ma guarda questo riccio perfetto ti dispiacerebbe fare anche il resto? non sono sicura possa funzionare ancora wow incredibile perché usare ancora un arricci a capelli? sembra appena uscita dal parrucchiere grazie e ora fuori a sfoggiare l'acconciatura dai solo altri due punti stai vincendo tesoro? ci sei? ciao ti vedo perché non mi parla? che stai facendo Lili? bene pretendo la tua attenzione non toccarmi i capelli ah tu e i tuoi capelli i miei elastici è l'ora di prendere il controllo non ho neanche messo in pausa il gioco non riesco a muovere le braccia Lili adesso che ho tutta la tua attenzione pensavo di farti una nuova acconciatura prendi dei capelli e attorcigliali dovrebbero arricciarsi naturalmente in questo modo quindi fissali e adesso passa a un'altra ciocca fissali allo stesso modo adesso applica un po' di lacca per capelli tieni in posa per un minuto e comincia a togliere gli elastici ok l'ultimo ehi ma sono fantastici come hai ottenuto così tanto volume? fammi fare una foto per Instagram bella non è ancora qui vero? ah ammazza che buono deve essere qui vicino giusto? altri dieci minuti ok intanto mangio oh vai allora che ne pensi? questa è la foto che mi ha ispirata ci sono volute due ore per gli Charlie ci credi? e lei era tipo i tuoi capelli sono così folti ma sono venuti bene vero? c'è qualcosa che non va oddio dei capelli lunghissimi non viene dalla mia testa vero? mi sentirò male sono ovunque dovevi proprio agitare i capelli in quel modo hai idea di quanto faccia schifo? è stato un incidente mi dispiace ok? resta soltanto una cosa da fare fatti una coda di cavallo che pensavi che avrei detto? con un giro i capelli non sono più in mezzo poi rigira ancora e tirali forte il resto va messo dentro carini vero? adesso sono ancora migliori non ci resta che ordinare un'altra insalata accidenti questo coso è vivo o cosa? ancora un secondo e mi avrebbe morsa devo solo finire questo compito e poi si va a pranzo wow come sta bene Annie wow Annie che bei riccioli grazie volevo provare qualcosa di diverso ma che bei capelli che ha Annie e mi ti stanno proprio bene oh basta lo dici solo per fare il carino i miei capelli sono lisci e noiosi come sempre ehi magari questa penna può aiutarmi ci attorciglierò i capelli e aspetterò un attimo oh beh non sembra che abbia funzionato adesso sono di nuovo depressa ehi mi sa che dobbiamo rimetterci a studiare prendo un po' di appunti accidenti la penna non funziona ci soffierò sopra funzionerà oh ehi hai una penna da prestarmi mi dispiace ho solo questa Eva tu hai una penna da prestarmi oh ma sembri così triste sono arrabbiata per i miei stupidi capelli oh per così poco ti aiuto io a renderli ricci guarda prima prenderò una sezione dei tuoi capelli userò due dita e ci arrotolerò i capelli intorno poi ci farò passare le punte in mezzo infine tiro per bene per rendere tutto ben stretto oh ma sembra semplicissimo non vedo l'ora di vedere i ricci fermati non slegarli ancora devi aspettare almeno un minuto ok farò il conto alla rovescia ok ora slegali wow non posso credere che siano così ricci adesso sono riccissima Eva ti stanno così bene grazie Annie non ci sarei riuscita senza il tuo aiuto quando vuoi Eva e ora torno a flirtare un po' ma dove è andato? oh ma dai non può essere ti pareva se non fosse stato per me non avrebbe avuto quei capelli questo prodotto è il migliore ho un cliente è ora di mettersi al lavoro salve signore come posso aiutarla oggi? ah sì un'ottima scelta posso farti quel taglio e lascia che le mette il mantello e siamo pronti lei è nelle mani di un artista? un po' fuori dalle righe forse un taglio qui e uno qui ecco il mio capolavoro è completato le piace? sono 50 centesimi ecco qui ha fatto un ottimo lavoro grazie grazie lo so le toglierò questo mantello e le auguro buona giornata addio sono pronto per il prossimo e cosa posso fare per lei oggi? forse solo una spuntata? non oggi voglio cambiare look tagliamo un bel po' voglio essere alla moda e di tendenza ok nessun problema un piccolo taglio qui e un altro lì fatto! hai un aspetto incredibile eh cosa? ma sono come prima è letteralmente della stessa identica lunghezza sembra una persona nuova togliamo questo mantello wow sta ancora meglio è ora di pagare ecco a lei ah no non basta per un capolavoro del genere ma che ci fai ancora qui? non hai un posto dove andare? sciò sono così bravo nel mio lavoro grazie a tutti Grazie a tutti.